Sono Laura Echina e faccio parte del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Torino in rappresentanza di FederManager Gruppo Minerva. Sono una dirigente e rappresento il gruppo delle donne dirigenti dell'industria nell'ambito del comitato cercando di portare la mia testimonianza e la mia esperienza di manager d'azienda nelle attività del comitato. La posizione delle donne dirigenti è una posizione che negli ultimi anni si è accresciuta e molte sono le donne che sono riuscite ad arrivare anche a posizioni apicali, quelle di amministratore delegato o di direttore generale, ma la strada che le donne devono ancora compiere è ancora molto lunga. Per questo è importante l'attività che viene svolta dal comitato insieme con le altre associazioni proprio per cercare di rafforzare, diffondere la cultura delle donne manager in azienda. Per le donne che lavorano in azienda e che vogliono fare una carriera professionale, quindi ambiscono a delle posizioni apicali, è importante avere un esempio perché comunque attraverso l'esempio si può anche raggiungere una maggiore motivazione. Per questo motivo il comitato dell'imprenditoria femminile ha avviato tutta una serie di attività, tra cui quella di andare a selezionare delle donne che sono riuscite a raggiungere delle posizioni apicali in azienda e che possano essere testimoni per le nuove generazioni, quindi facendo interventi presso le scuole e per le donne imprenditrici o per le donne che vogliono avviarsi verso l'esperienza dell'imprenditoria. Queste iniziative hanno come finalità quello di condividere queste esperienze e quindi creare un empowerment verso tutte le donne con l'auspicio di poter lentamente accrescere il numero di donne imprenditrici e manager d'azienda e sostanzialmente il messaggio che il comitato vuole dare è che comunque con un po' di impegno e con un po' di sostegno anche dalle altre donne ce la possiamo fare.